...in modo assurdo che in questo momento c'è la luce che deve vincere. Sta nell'impegno di ognuno di noi, nei nostri quartieri, nelle nostre città, trasmettere i valori di tolleranza, di comprensione, di incontro, di amicizia che sono propri dell'Unione europea e di tutti i paesi europei. Grazie per essere qui. Onore a Bruxelles, capitale dell'Udizio e capitale dell'Europa.